Per i 160 dipendenti dello stabilimento Valentino di Levane, divorato dalle fiamme nella notte tra giovedì e venerdì, si aprono adesso 13 settimane di cassa integrazione. C'è stato infatti subito l'accordo su questo punto tra i vertici dell'azienda e i rappresentanti sindacali che si sono incontrati a poche ore dal drammatico rogo. La cassa integrazione dunque scatterà subito e l'azienda è anche disponibile ad anticiparla. Molto più complesso invece sarà il percorso per il futuro immediato della produzione e per quello a lungo termine. I sindacati hanno chiesto che il Valdarno continui ad essere uno dei centri strategici del gruppo, insomma che Valentino resti nella vallata. Da questo punto di vista sono arrivate rassicurazioni, nel frattempo però si cercheranno anche soluzioni alternative per far riprendere la produzione quanto prima, magari trovando sedi temporanee alternative. Tra i primi ad accorrere allo stabilimento di Valentino il sindaco di Bucine, Nicola Benini, che ha sottolineato il massimo impegno da parte dell'amministrazione comunale per garantire questa continuità. Ci metteremo a disposizione perché la struttura venga recuperata il più velocemente possibile e faremo di tutto per mantenere l'attività qui nel territorio. Comunque sia, ecco, non penso sia una cosa anche semplice spostare un'attività di questa entità dall'oggi al domani, quindi comunque ci metteremo in contatto con l'azienda per creare le condizioni perché rimangano qui e che si possano essere operativi nel tempo più breve possibile. Bene . Grazie.